spuntano nuove indiscrezioni su cosa è accaduto dopo il falò di temptation island tra alfred e anna la tentatrice sofia ha mentito al ragazzo i rumors al confronto anticipato anna e alfred si sono separati con pianti e accuse reciproche e il giovane è tornato dalla single sofia i due sono usciti insieme e cosa è accaduto dopo temptation island scopriamolo temptation island il falò di confronto tra alfred e anna martedì 8 ottobre è andata in onda la quinta puntata di temptation island e l'attesa dei fan è stata premiata il confronto tra anna e alfred non ha deluso regalando emozioni pianti e frecciatine il percorso della coppia è stato chiaro fai dall'inizio con alfred che si è subito avvicinato alla single sofia complice un malessere legato alla relazione che non aveva però mai ben spiegato alla fidanzata dal canto su anna ha dovuto metabolizzare la realtà sul suo fidanzato lui aveva smesso di amarla da tempo ma restava con lei per gratitudine durante il confronto alfred ha cercato di spiegare alla ragazza le sue motivazioni ammettendo di aver sbagliato ma di non volerle più mentire e di non riuscire a continuare il giovane ha anche affermato di voler chiedere perdono alla famiglia di lei a cui sarà per sempre grato anche anna si è tolta alcuni sassolini dalle scarpe tirando numerose frecciatine alla tentatrice ma ammettendo che augura comunque ad alfred tutto il bene possibile perché non lo reputa un cattivo uomo le lacrime sono scese ad entrambi ma la decisione finale è rimasta quella di uscire dal programma separati come saranno proseguite le cose rumors su sofia e alfred ecco la nuova segnalazione i fan di temptation island hanno preso a cuore la storia di anna e alfred e dopo il confronto sui social sono spuntate ipotesi su cosa sia accaduto subito dopo il falò con anna alfred ancora provato ha voluto incontrare la single sofia per ringraziarla di averlo aiutato a chiarire i suoi sentimenti i due sono dunque usciti insieme dal programma ma successivamente come sono andate le cose tra loro la scelta di alfred sarà stata giusta oppure il ragazzo si è pentito di quanto accaduto con sofia a svelare i rumors è stata l'esperta di gossip di janira marzano che sui social ha postato il messaggio di una fan ho amici in comune con sofia mi viene da ridere perché si è uscita da lì con alfred ma ora sente e vede un ragazzo che frequentava da prima di partecipare al reality lui è un mio amico questa segnalazione è molto importante perché se confermata svelerebbe che sofia costantini ha mentito alla produzione la giovane ha infatti partecipato alla trasmissione come single tentatrice ma a quanto pare potrebbe essere stata impegnata alfred dunque avrebbe scoperto tutto successivamente ma non è chiaro se i due si siano allontanati o si frequentino ancora di sicuro la situation è più complessa del previsto cosa ne pensate